Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati in questa nuova video recensione e bentornati qui sul canale Times Gadget. Lo so ragazzi, purtroppo non sono stato tanto presente in questi ultimi due mesi qui su YouTube, ma per problemi e per questioni lavorative purtroppo non sono riuscito a portarvi costantemente i classici video settimanali. Per oggi riprendiamo a bomba, riprendiamo a tutta con la recensione completa, tanto tanto richiesta, di questo nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Una recensione che arriva dopo quasi due mesi e mezzo, quasi tre mesi di utilizzo. Devo dire che non mi aspettavo di scivolare così tanto, però da quando l'ho acquistato la mia idea era quella di portarvi un video dopo un lungo periodo di utilizzo. Lo volevo portare dopo un mese, un mese e mezzo, però comunque siamo arrivati a due mesi e mezzo, ma ben venga perché sono riuscito veramente a testare tutte le funzioni di questo dispositivo. E oggi vi parlerò di tutti i suoi punti positivi e anche dei punti negativi. Quindi non perderò tanto tempo nel parlarvi della confezione, degli accessori. Vi accenderò solamente in maniera veloce e breve alle specifiche tecniche, perché la maggior parte di voi sicuramente già le sapranno tutte a memoria. E quindi oggi partiamo subito ad andare a parlare del design. Design che rispetto al modello precedente non cambia tanto nella parte estetica, nella parte anteriore, ma cambia un pochino e si sente, se passate dal 2 a questo nuovo Fold 3, nel peso e nello spessore. Perché il peso è arrivato a 271 grammi, mentre lo spessore è stato leggermente diminuito e seppure poco, però, vi assicuro che se passate dal 2 al 3 lo sentirete subito. E mi ha fatto piacere, perché comunque si tratta di un pieghevole che, come molti di voi ormai sapranno, non è uno degli smartphone più sottili. Ma comunque si riesce sempre a portare bene in tasca, perché anche le dimensioni comunque non sono, ok, compatte, però neanche così generose. Quando è chiuso abbiamo un'altezza che è pari quasi a quella dell'S21, ma è leggermente più basso. Ma la cosa che comunque lo rende molto utilizzabile a livello quotidiano con una mano è la sua larghezza, perché guardate quanto è più stretto dell'S21. E devo dire, questo è un design, è una cosa, è una caratteristica che fa davvero molto la differenza, perché nell'utilizzo quotidiano il display esterno si utilizza davvero molto bene. Non solo perché noi possiamo arrivare con il pollice dall'altra parte dello schermo, ma tramite le gesture e tramite tutti poi gli aiuti che ci vengono incontro con la One UI, devo dire, si gestisce molto molto bene. A livello poi di design che cosa cambia? Cambia principalmente, come avrete sicuramente notato, la parte posteriore, perché quest'anno finalmente è stata implementata, è stata tolta la back cover in vetro lucido, specchiato, che era una cosa che ho sempre reclamato, sempre protestato per il secondo modello, perché tratteneva tantissimo le impronte, si ingrassava ed era veramente uno schifo, tanto che sono andato a coprirlo spesso con skin da di brand o con le cover. Invece quest'anno è stato inserito questo fantastico vetro opaco, nero satinato, che troviamo anche sulla serie degli S21, che non mi stancherò, ma di dire ragazzi, è davvero fantastico. È davvero bellissimo non solo la vista a livello di design, è molto elegante, ma è molto utile, perché non trattene le impronte, non si graffia, oltre che essere bellissimo proprio, come vi dicevo, al tatto, è piacevolissimo, seppur con le mani fredde diventa un pochino scivoloso in alcuni casi, però comunque devo dire che non si graffia. Sembra un po' come le lavagne magiche, quando andate a fare un piccolo graffio, basta che passate il dito o un panno e il grassofio si va a togliere. Anche perché questo qui è stato un device che ho testato per oltre un mese senza cover. Vuoi un po' perché è stata una scelta mia di non voler prendere le cover, proprio per testarlo così com'è, così com'è esce dalla scatola, dalla confezione, e un po' vuoi perché comunque le cover hanno tardato ad arrivare. Anzi quest'anno, devo dire, ha tardato parecchio ad arrivare anche la cover, che mi è arrivata in omaggio, quando ho acquistato questo Fold 3 insieme alla S Pen, insieme anche, che la S Pen poi è un'altra grande novità, che ve ne andrò a parlare poi anche in questo video, e mi è arrivato anche poi nel pacchetto il caricatore a muro, che non viene compreso quest'anno anche con questo Fold nella confezione. Comunque, a parte questo, devo dire che si mantiene veramente molto bene in mano, e altro punto che è stato cambiato è il design di queste camere. Il design è molto bello e elegante quest'anno, seppur i sensori sono rimasti i medesimi dello scorso anno. Quindi abbiamo tre camere da 12 megapixel, con la principale, come al solito, più luminosa, con f1.8, lo zoom 2x da f2.4 come f, e invece la grande angolare ha un f2.2, quindi è quella intermedia. Poi abbiamo altre due camere. La prima è quella esterna, che è questa qui qui sopra, che è quella che viene utilizzata più spesso, anche se poi i selfie vi farò vedere poi in questa recensione, quando andiamo a parlare del comparto fotografico, si possono benissimo fare con questo Fold, direttamente con le camere posteriori, però comunque non ho avuto nulla da ridire sulla camera anteriore esterna, perché è una 10 megapixel con f2.2, quindi performante al punto giusto, se così vogliamo dire, e poi abbiamo un'altra invece interna, che è molto sottotono, ragazzi, perché è una 4 megapixel f1.8, però la cosa fantastica di questa camera quest'anno è che è stata inserita e nascosta sotto al display. Quindi, dopo il primo o secondo giorno di utilizzo, ragazzi, sinceramente ve ne scordate completamente. Ed è una cosa fantastica. Devo fare un applauso a Samsung, perché seppur è molto sottotono rispetto alle altre, ma nella maggior parte dei casi poi non lo andate mai a utilizzare. Io sinceramente l'ho utilizzata in due mesi e mezzo, forse un paio di volte, per un paio di call che ho fatto di videochiamate, ma poi ve ne scordate e non lo utilizzerete mai per le foto, perché non vi viene spontaneo andare ad aprire il Fold per farvi una foto con la camera anteriore, ma andate sempre a utilizzare quelle esterne. Quindi devo dire che ha fatto un bel ritocco, una bella modifica a Samsung, perché in questa maniera noi possiamo sfruttare appieno il display interno, senza nessun tipo di interruzione sul bordo. Poi vi farò vedere anche poi tutto il comparto fotografico. Per quanto riguarda sempre il design, che cosa è cambiato? Cambia leggermente il frame metallico in alluminio, satinato nero, davvero bellissimo. Quest'anno è stata rivista anche la finitura in questo nero opaco, che è leggermente più scivoloso, però è molto bello anche questo attacco e va a riprendere il nero opaco sulla back cover. Sono stati lasciati lì dove erano i vari pulsanti, fra cui il bilancio del volume, il tasto di accensione e spegnimento con il sensore di impronte integrato, che funziona benissimo, anzi devo dire che funziona anche molto meglio rispetto a tanti altri sensori che sono stati integrati quest'anno poi, comunque in ultimi anni, sotto al display. Invece è stato spostato il carrellino della SIM, che prima ce l'avevamo qui sotto, invece quest'anno è stato spostato qui sopra in alto, che è un carrellino con dual SIM, purtroppo non abbiamo l'espansione memoria, ma lui però è anche compatibile con le SIM. Nella parte alta, oltre ai due microfoni per la soppressione dei frusci e dei rumori, come secondo i microfoni, abbiamo il primo speaker, anzi il secondo speaker, nella parte alta, che è molto grande e suona davvero molto bene questo telefono, e poi abbiamo un altro, un secondo speaker qui sotto, che è quello principale, con il microfono e con la porta USB-C 3.2, esce in video, in audio, Samsung Dex, OTG, quindi potete attaccare pennette, USB esterne, qualsiasi cosa. È un telefono molto molto flessibile, che in molti casi va quasi a sostituire, non vi dico, a tutto tondo un laptop, però comunque ci riuscirà a lavorare sotto molti aspetti. La cerniera è stata migliorata, perché quest'anno è stata perfino impermeabilizzata, infatti il dispositivo è stato ormai dotato di certificazione IPX8, ciò vuol dire che non è resistente a immersione, però comunque riesce a resistere bene agli schizzi d'acqua, alla polvere, ho visto anche alcuni test che l'hanno perfino immersi in acqua, e il dispositivo comunque ha risposto bene, perché si è comportato bene e ha continuato a funzionare, quindi un plauso a Samsung, non so come abbiano fatto l'ingegnere a andare a impermeabilizzare queste parti di un pieghevole che sono quasi totalmente aperte, ma le sono riuscite a chiudere. La linea in mezzo, devo dire che un pochino ci fate caso il primo o il secondo giorno, forse anche il terzo giorno, dopo di che ve ne scordate, perché una volta acceso ragazzi, poi la linea sì, un pochino si intravede, ma una volta che poi ci fate la mano, lo cominciate a utilizzare per lavoro, per i video, per i film, ve ne scordate completamente e non ci fate più caso. Stessa cosa per la camera, guardate qui, ormai già penso, ve ne se ne scordate, che esiste una fotocamerina lì sopra. Per quanto riguarda la maneggevolezza invece, ecco, una cosa che ho notato, è che vuoi per il nuovo design con questi bordi leggermente un po' più scivolosi e con la diversa statinatura, vuoi per l'apertura che con le sue calamite, la prima apertura, questa qui, la fase proprio di apertura, è stata leggermente indurita, quando avete le mani un po' fredde, tende un pochino a scivolare, è un pochino più duro rispetto al secondo modello, e questa qui è una cosa che, non vi dico, mi ha fatto stanire, mi ha fatto storcere il naso, però, delle volte, ho avuto un po' la paura che mi scivolasse dalle mani, perché quando andiamo ad aprire, qui scivola, quindi vi dovete impuntare bene le dita qui sotto e andare a spingere e aprire. Chiaramente questo qui è un problema, tra virgolette, che si può andare a risolvere poi implementando e utilizzando telecover, però nulla di che, però ve lo volevo dire. Il sistema di apertura è stato anche leggermente migliorato, perché, essendo un pochino più rigido, il device, il pieghevole, si va a tenere esattamente come lo lasciate in qualsiasi posizione, quindi voi, qualsiasi posizione voi volete farli avere al pieghevole, lui rimane così come sta, non ha quella molla che tende ad aprirlo all'ultimo o tende a chiuderlo invece all'inizio, quindi molto molto bene anche sotto questo aspetto. Mi è piaciuto, rimane invece la mediesima, la cerniera esterna, sempre in metallo lucido con il brand Samsung. La andiamo ad aprire, nel frattempo ve lo volevo anche parlare dell'olofobicità invece della pellicola, che è andata a migliorare. Devo dire, non è delle migliori e chiaramente non si comporta bene come i display, per esempio, che abbiamo sui smartphone senza pellicola, perché quelli lì hanno un altro tipo di tecnologia, un altro tipo di vetro, però comunque si comporta molto molto meglio rispetto al modello precedente. Non abbiamo più una pellicola a vista che va a incorniciare qui la fotocamera, ma va a coprire completamente, quindi non vi viene nemmeno in mente delle volte di staccarla e delle volte ne scorderei proprio che c'è una pellicola. Ma questa acquisiva però va bene, perché comunque io non sono mai stato attento tanto a pulirlo, l'ho sempre pulito con quello che mi capitava, come in questo caso con una pezzetta o con la maglia perfino, passandola anche sui pantaloni e non si è mai andato a rigare. Quindi ottimo lavoro anche sotto questo aspetto. Stessa cosa vale per la pellicola esterna, che comunque sono le pellicole già preimpostate e sono sempre molto utili averle su un dispositivo, specialmente su un dispositivo di fascia così alta. Andiamo però ad accenderlo, chiaramente sono rimasti i sensori sblocco facciali, quello nella parte che funziona con la camera, sia esterna che con quella interna. Io l'ho lasciato e lo vedete anche con questo led che gira, perché mi fa comodo delle volte avere il sensore quando ho il tablet, o comunque lo smartphone aperto. Parlando adesso di display invece, allora prima di tutto abbiamo un'unità esterna da 6.2 pollici, da 120Hz, chiaramente entrambi quest'anno, fortunatamente infatti è stato implementato il 120Hz rispetto al modello precedente anche sul display esterno, e si vede la differenza ragazzi, nelle turisti tutti i giorni, devo dire il 120Hz inizia a fare la differenza. 372ppi, abbiamo su entrambi gli schermi, sia quello esterno che quello interno, un nuovo AMOLED di seconda generazione a 1200 nits. Mentre, ecco quello lì che vi dicevo, vedete come va un po' a scivolare quando non andiamo a puntare il dito bene ad aprirlo. Mentre su quello interno abbiamo un display da 7.6 pollici, anche esso chiaramente 120Hz, leggermente meno luminoso di quello esterno. Però comunque devo dire, nell'utilizzo poi tutti i giorni, si vede benissimo sotto la luce del sole, e non mi ha mai creato problemi. Chiaramente si vede bene anche quando andiamo a piegare, anche un po' da tutte le varie angolazioni. La cosa comoda di questo pieghevole è che anche nella parte esterna, se voi andate ad attivare l'opzione che va a ruotare la home, poter avere una specie di docking station direttamente col display esterno, senza per forza di cose andare a sfruttare il display, invece quello interno. Per quanto riguarda il display, andiamo subito a vedere nelle varie impostazioni, così vi faccio vedere qualche cosa che abbiamo come opzioni, perché è molto personalizzabile. Chiaramente il tema giorno e notte rimane, luminosità ad attività e non, uniformità di movimento, ciò vuol dire refresh rate anche qui può essere cambiato, tra ad attivo a 120Hz, non sempre viaggia a 120Hz, ma per ottimizzare la batteria si abbassa anche intorno, mi sembra, fino ai 10Hz, se non vado errato anche un pochino di meno. E poi abbiamo quello standard, lo standard vuol dire che gira sempre a 60Hz. Abbiamo la modalità di schermo vivida o naturale, su quella vivida possiamo andare a settare e a decidere noi se con i colori più caldi o più freddi, e nelle impostazioni avanzate gestire e settare gli RGB, quindi massima flessibilità di utilizzo per quanto riguarda il display. Oltre al stile e dimensioni carattere che sono i solidi, abbiamo su questo, per chi non lo sapesse, c'era anche sul modello precedente, i layout e zoom di schermo. Che cosa vuol dire? Noi possiamo decidere se la visualizzazione è multiva, ciò vuol dire che va, come in questo caso, a sfruttare appieno e ottimizzare appieno il display, per vedere i menu, per vedere anche YouTube o per le altre applicazioni, oppure la visualizzazione standard, che in pratica è lo stesso menu che troviamo sugli altri dispositivi, però solamente allargato. Come delle volte, io faccio sempre l'esempio, succede spesso, purtroppo, dico, su molti tablet Android, che in pratica le applicazioni le fanno vedere non ottimizzate, ma semplicemente allargate. Invece, in questa maniera, secondo me, vale la pena perché almeno andate a ottimizzare tutti gli spazi. La barra navigazione rimane la stessa, ma purtroppo non può essere, diciamo, scelta differenziata fra il display interno e quello esterno. Se scegliamo la barra con, per esempio, i gesti di trascinamento a posto dei pulsanti, ce l'abbiamo sia all'esterno che all'interno. A me, per esempio, invece, delle volte avrebbe fatto comodo i pulsanti nello schermo esterno, invece, le gesture su quello interno. Qui dentro, poi, abbiamo tutta una serie di opzioni, per esempio, blocca gesti con SPN, mostra il pulsante per nascondere la tastiera, abbiamo una serie di opzioni che siamo stati abituati a vedere anche su altri dispositivi. Abbiamo, sulle informazioni del telefono, il software con la versione Android aggiornata alla 11, con la versione di One UI 3.1.1, mentre le patch di sicurezza siamo al 1 novembre. Devo dire che Samsung, ultimamente, sta comportando molto bene a livello di ottimizzazione, a livello anche di aggiornamenti, seppur il Folder mi riceve degli aggiornamenti leggermente più ritardo rispetto all'S21, però, comunque, rispetto a tanti altri dispositivi che ho notato col tempo vengono abbandonati, devo dire che Samsung, ultimamente, negli ultimi anni, li sta portando tutti avanti. Sempre per quanto riguarda lo schermo, vi voglio far vedere il video classico in 4K HDR, perché a tempo stesso ne approfitto anche per farvi sentire l'audio, che si sente davvero molto molto bene ed è molto alto, ed esce da entrambi le casse. E noi, con le casse poste qui sopra, da un lato e da quest'altro, possiamo decidere se impugnarle o così, così da avere una presa salda, ma non andare a otturare le due casse, come succede spesso con i smartphone classici, oppure anche da quest'altra, e avere però a portata di mano qui sopra per bilanciare il volume. E adesso ve lo faccio sentire. E alzo tutto il volume. Allora, come state vedendo, e come avete anche sentito, seppur la prova dell'audio la trovo sempre un pochino relativa, il display interno si vede veramente bene, ragazzi. È veramente una goduria utilizzare un display del genere, e averlo sempre in tasca per l'intrattenimento, per i video, per lavoro. Si vede decisamente molto molto bene. E come vi dicevo prima, seppur è un pochino meno luminoso, ma non ho mai avuto problemi di alcun genere, anche sotto la luce diretta del sole. Quindi questo qui, devo fare un palazzo a Samsung, perché ha fatto davvero un bel lavoro con questo display. È davvero una bellissima unità. E ha fatto un bel lavoro anche con l'audio, perché avete sentito quanto è alto, quanto è corposo. Abbiamo chiaramente gli speaker stereo con il Dolby Atmos, che può essere come al solito, attivato qui dal pannello controllo, che adesso non lo trovo più, ma ce l'ho forse nascosto in qualche altra parte, perché poi l'ho attivato, e non mi interessa sempre poi averlo a portata di mano, perché comunque è inutile disattivarlo. Ma ha fatto un bel lavoro anche sul bilanciamento dell'audio, perché l'audio esce quasi un 50 e 50 da entrambi le casse, cosa che reclamo spesso e che noto spesso su altri dispositivi, dove esce un 70 e un 30, un 60 e un 40, a occhio e croce faccio una percentuale del genere, però me ne accorgo, perché quando vado ad otturare uno speaker, non si sente quasi più niente, mentre quando vado ad otturare l'altro, invece, si sente molto di più, perché quello principale ha sempre una certa percentuale in più di potenza. Invece, su questo Fold 3, devo dire, sono stati equilibrati alla perfezione, quindi ottimo anche sotto questo aspetto. Altro aspetto che mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto, quanto il Fold 2 è stata la batteria. Io ho qui alcune screenshot che vi avevo fatto, ormai già da tempo, fra i primi giorni, però è cambiata notevolmente con la batteria, con gli aggiornamenti. Questo qui ve lo devo dire. Per esempio, questo qui è stato uno dei primi, nelle prime settimane di utilizzo, dove sono andato alle 11 di sera con il 12%. Vi ricordo che la batteria interna è da 4400 mAh, lui supporta, come al solito, la ricarica veloce con il cavo a 25 W, e veloce a 11 o 12 W, per quanto riguarda la wireless. Abbiamo la wireless inversa, che è comodissima con le cuffiette, o anche con gli orologi di ultima generazione, perfino con i nuovi Galaxy Watch 4, va benissimo, e secondo me è una funzione utilissima, se è integrata in questa maniera. Ma come vi dicevo, questo qui è stato il primo periodo di utilizzo, infatti alcune volte andava a variare, con quasi due ore di schermo acceso, sono riuscito ad arrivare a mezzanotte con il 34%, seppur l'applicazione Connect, quella di Garmin, mi ha consumato davvero tanto. Pensate, guardate qui, mi ha consumato il 28% della batteria totale, quindi era un'applicazione che drenava parecchio. Però devo dire che poi col tempo, anche in quest'ultimo periodo, è andata a migliorare. E sono riuscito sempre ad arrivare a sera, anche con più ore di schermo acceso, anche arrivando alle 3 ore di utilizzo, come in questo caso per esempio, e anche intorno alle 10 e mezza, di sera alle 11, con un 30%, 25%. Quindi, non si comporta come un battery phone, però comunque in linea generale si comporta bene. Poi è chiaro, che si deve sempre vedere, come vi dico di solito, il tipo di utilizzo che se ne fa. Perché se si fanno tante ore di schermo acceso, con il browser, con, non vi dico YouTube, ma con qualche altra applicazione, o per lavoro, è chiaro che può durare di più, rispetto a chi lo utilizza un'ora, ma gioca solamente, e vede solamente i video. Perché in quel caso, la batteria è chiaro che va a drenare di più. Per il resto, comunque, si comporta bene, diciamo, senza infame e senza lote. Non è un battery phone, come ho detto, però alla fine, a fine giornata, mi ha sempre portato, e non ho mai avuto problemi. A parte quando la andiamo a stessare parecchio, andiamo a fare parecchie foto, ma soprattutto parecchi video, con il telefono, allora lì potrebbe, a darvi qualche problemino, e lo dovete far caricare intorno alle 8, alle 8 e mezza di sera, un po' a seconda di quanto lo utilizzate. Per quanto riguarda la, diciamo, la velocità e la fluidità del telefono, siamo ai massimi livelli. Abbiamo lo Snapdragon 888, la GPU Adreno 660, nel frattempo vi vado ad aprire, un po' di app social, per farvi vedere la velocità. E devo dire, ragazzi, si comporta sempre molto bene. Cioè, non ho mai avuto nessun tipo di problema, con questo dispositivo, non ho mai avuto nessun tipo di impuntamento, con nessuna applicazione, e poi la cosa interessante, è che con questo dispositivo, possiamo andare a gestire più app contemporaneamente, perché è rimasta l'opzione, per andare ad avere più app, anzi, torniamo qua, a gestire più app contemporaneamente, sullo schermo. Ma prima vi voglio far vedere, delle funzioni avanzate, perché me la vede che si intanti, come si fa a bloccare questa barra qui da un lato, adesso sicuramente molti di voi si saranno informati, e lo sapranno, però ve lo dico lo stesso, per chi di voi non lo sa, o è la prima volta che vede il Fold. Allora, sulle funzioni avanzate abbiamo una marea di funzioni, per esempio la chiamata a testo su altri dispositivi, se utilizzate tablet Samsung, o altri dispositivi, o anche i laptop, ve lo potete andare a interfacciare con gli altri, quindi switchare le chiamate, i testi da un dispositivo a un altro. Possiamo continuare a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi, collegamento Windows, Samsung Dex, Android Auto, Quick Share per la condivisione veloce, l'S-Pen, il tasto laterale che può essere personalizzato come al solito, io per esempio con il doppio tocco ho inserito Google Pay, che mi si apre, invece con la pressione prolungata Bixby, se pure Bixby poi non lo utilizzo mai, l'S-Pen, perché quest'anno abbiamo tutte le varie impostazioni, e funzioni dell'S-Pen, che ne sono davvero tante anche in questo caso, le gesturei moderate con una mano, tutti i gesturei per l'ottimizzazione, e poi abbiamo il Labs, ecco, il Labs è quello di cui vi volevo parlare, perché è la parte più interessante di queste opzioni, per esempio, abbiamo la possibilità di mettere adesso tutte le applicazioni in multischermo, quindi è stata implementata questa funzione, che prima si poteva avere, ma solamente con le applicazioni di terze parti, o qua anche con un'applicazione Samsung ufficiale, ma che non era presente sullo store italiano, e quindi c'era sempre andata a scaricare, da siti di terze parti, per andare a implementare, e quindi fare un po' di giochetti, invece quest'anno, sono riusciti a forzare tutte le applicazioni, quindi qualsiasi applicazione, compreso Instagram, la possiamo utilizzare a metà schermo. Abbiamo la durazione automatica sulle app, ma possiamo anche non andare a mettere la durazione automatica su alcune app che non vogliamo, e poi abbiamo la personalizzazione del formato, altra interessante funzione che è stata implementata, perché tipo Instagram, l'avete visto che si vede in 16 noni, invece, grazie a queste impostazioni, noi possiamo andarla a forzare, e a settarla a 4 terzi, ve lo faccio vedere direttamente, a 4 terzi, in questo caso oppure a schermo intero. Io sinceramente lo continuo adesso ad utilizzare a 16 noni, perché per fare le storie delle volte, o per alcuni video, a schermo intero può dare qualche piccolo problemino, a livello di proporzioni, però devo dire che vedere Instagram, consultarlo a tutto schermo, è davvero molto molto bello. Poi oltre a questo invece abbiamo, questa opzione qui sotto, che se l'andate ad attivare, vi va a bloccare questo pannello qui a un lato, e questo pannello, devo dire, non ha prezzo ragazzi, perché è un pannello utilissimo, per l'utilizzo di tutti i giorni, perché qui abbiamo le app che noi vogliamo scegliere, che utilizziamo di più, e ce l'abbiamo sempre a portata di mano, con un attimo qua, le buttiamo dentro in questa maniera, e possiamo scegliere se a destra, a sinistra, sopra o sotto, a seconda della divisione, o per esempio anche buttare di qua un'altra applicazione, e in più possiamo chiaramente suddividere ulteriormente a 3 lo schermo, e se vogliamo possiamo anche, anzi no, portiamoci questa qua, della galleria, portarci anche un'altra app, che possiamo portarci in giro dove vogliamo, perché noi quando andiamo a ritornare alla home, questa rimane in pop-up, quindi in picture, in picture, pip, e da qui possiamo decidere se allargarla, restringerla, la possiamo come al solito allargare tutto schermo, oppure richiuderla a icona, e l'icona la possiamo spostare dove vogliamo, oppure chiaramente da qui la possiamo andare a chiudere, quindi rimangono tutte queste app, e avere questa barra, che qui su voi vi fa vedere le ultime 3 app utilizzate, è una cosa che non apprezzo secondo me, è una delle funzioni che ho utilizzato di più, e non appena l'ho scoperta, l'ho settata sempre, l'ho lasciata sempre fissa, poi abbiamo la possibilità anche qui, altra forzatura che è stata implementata, tra virgolette da Samsung, è anche quella di avere il pannello flex, quindi noi possiamo decidere tutte le applicazioni che vogliamo, anche le possiamo settare tutte, di forzarle per utilizzarle con il dispositivo piegato, perché vi faccio vedere per esempio YouTube, non so se ci avete fatto caso prima, ma se io metto il dispositivo in questa maniera, e lo vado a chiudere, quando vado a far partire un video, con le applicazioni, vi vado a abbassare il volume, con le applicazioni che sono compatibili, ottimizzate, avete la possibilità di vedere il video qui sopra, e interagire voi invece qui sotto, ecco una cosa che dovete stare attenti, che delle volte non lo fa, vi apre le applicazioni in questa maniera, in pratica vedete adesso è tutta un, abbiamo solo una colonna, se io invece vado a richiudere YouTube, e lo vado a riaprire, guardate adesso come me le fa vedere, ecco questa qui è una cosa, che ancora non è stata ottimizzata, perché quando lo vado ad aprire sullo schermo esterno, e poi passa a quello interno, non me la fa vedere così, ma non me la ottimizza, ma la mette su, come avete visto prima, con la visualizzazione classica, però solamente più allargata, invece in questa maniera è molto meglio, perché va a ottimizzare a due colonne, e se la mettiamo in orizzontale fino a tre colonne, questa è una funzione che devo dire, spesse volte fa comodo, perché abbiamo la possibilità di vedere sei video contemporaneamente, a livello di anteprime, altra cosa invece vi stavo dicendo prima, è per quanto riguarda la piegatura del display, avete visto come adesso YouTube è ottimizzato, ma se noi andiamo a prendere per esempio un'applicazione, che utilizzo spesso ormai su questo folder, che è Netflix, per vedermi qualche film o qualche video, prima Netflix è ancora oggi, non è ottimizzato per questo tipo di funzione, e quindi che succede, se noi andiamo per esempio ad aprire un video, prima quando piegavamo non succederà nulla, quindi rimane a tutto schermo, invece se adesso pieghiamo e andiamo ad attivare quella funzione, vedete come che succede, il video passa nella parte superiore, e qui sotto invece abbiamo i controlli, per andare a tirare giù la tendina delle notifiche, a fare uno screenshot, a gestire la luminosità, oppure a gestire anche l'audio, e chiaramente qui abbiamo i controlli multimediali, se noi vogliamo chiudere, chiudiamo e ripassiamo a tutto schermo, oppure basta che riallarghiamo il telefono, lo riapriamo e passiamo a tutto schermo, questo devo dire è una funzione comodissima, che è stata implementata adesso, e può essere forzata, tra virgolette, su tutte le applicazioni che vogliamo, quindi se avete necessità di vedere una parte solo del display, utilizzare l'altra con qualche altra cosa, lo potete semplicemente fare, visto anche questo però, adesso passiamo un po' al reparto fotocamera, va, visto che vi ho fatto vedere tutto, così non perdiamo tanto tempo nel vedere altre cose, ah, ultima cosa, questa barra qui a fianco, non vi ho fatto vedere, che da qui possiamo accedere alle applicazioni al menu, quindi non dobbiamo per forza le cose tirare su il menu da questa parte, in più possiamo sbloccarla, oppure decidere di avviare al volo i pannelli, che abbiamo settato, perché se noi la sblocchiamo, abbiamo il task edge, o chiamatelo come volete, il classico che abbiamo anche nella parte esterna, ma se voi invece lo volete bloccare, in questa maniera lo bloccate, ma volete accedere adesso, tornare al volo, ai pannelli, lo potete cliccare da qui a fianco, quindi è una cosa veramente, veramente utile, che va a portare a un livello superiore di flessibilità, di produttività questo dispositivo, per quanto riguarda invece adesso le fotocamere, allora vi faccio vedere, la funzione fotocamera, o comunque l'applicazione è la medesima, che troviamo su tutti gli altri, la cosa simpatica è che adesso qui si vede tutto schermo, quando lo andiamo ad aprire sullo schermo interno, qui sotto abbiamo le classiche modalità notte, ritratto, fotografia, fotografia chiaramente solamente il 2x, ma possiamo arrivare, lui segnala qua anche il 5x, o il 10x, però è chiaro che rimane, diciamo, molto meno performante, rispetto a uno zoom ottico, che abbiamo sull'S21 Plus, che ha un 3x, un 10x, qui bene o male è digitale, quindi non vi consiglio di utilizzarlo sempre, le impostazioni sono le classiche, abbiamo veramente tanti tipi diversi di impostazioni, ma abbiamo anche un'altra impostazione, che volevo farvi vedere, a parte le altre modalità, ok i video, i video li gira in 4k, a fino a 60 frame, lo possiamo settare qui sopra, gira bene, abbiamo anche la ultra stabilizzazione, non siamo ai livelli dell'S21, su alcuni aspetti, anche di notte, perché ha un sensore più grande, o anche ai livelli di iPhone 12 Pro Max, o del 13, però comunque si comporta benissimo, qui dentro abbiamo la disegno AR, abbiamo la modalità Pro, abbiamo la panorama, Cibo, abbiamo il video verticale, l'alentatore, il video Pro, Super Slow Motion, Hyperlapse, scatto singolo, il video da regista, per farci vedere in anteprima, tutte e tre le camere, quindi le classiche modalità video, che siamo abituati a vedere, anche su altri dispositivi Samsung, ma quello che vi volevo far vedere, a livello di trucchi, con questo Fold, è prima di tutto questa, quando la andiamo a piegare, questa qui, è una di quelle applicazioni, chiaramente, che è di base, e quindi è compatibile, con questo tipo di funzione, quindi noi possiamo utilizzare, il Fold come kickstand, per poter vedere quel video, e qui avere tutti i comandi, per quanto riguarda, la gestione delle foto, e quindi è molto comodo, non solo per farci i video noi, perché lo possiamo inclinare, e lo possiamo utilizzare, senza nessun tipo di kickstand, per riprendere, o per fare delle foto, in diverse angolazioni, anche foto di gruppo, risulta molto comodo, ma poi c'è anche, quest'altra funzione, con questo tastino qui sopra, ve lo vado a girare, questo qui, noi attiviamo la parte sul retro, quindi, quando vogliamo scattarci una foto, la possiamo anche, ecco perché vi dico, che vi scordate di questa camera, che sicuramente, molti di voi, non la stanno già, più vedendo, già ve la siete scordate, perché è qui sotto, e guardate qui, quando andiamo a utilizzare, altre applicazioni, con altri colori, che cambiano continuamente, veramente, la fotocamera diventa invisibile, però come vi dicevo, in questo caso, lo possiamo utilizzare, però, la funzione che vi consiglio, di utilizzare in questo caso, per scattare con il display esterno, e con le camere posteriori, non è, prenderla da qui, quindi, aprire la foto applicazione, fotocamera, e cliccare qui sopra, con il display aperto, ma, in quest'altro modo, perché vi dico questo, perché se noi clicchiamo così, questo qui, il pannello non si spegne dietro, quindi ogni volta, che dobbiamo farci una foto, dobbiamo stare attenti, a non cliccare, e delle volte non sappiamo, come prenderlo, perché lo dobbiamo per forza prendere così, e mi risulta un pochino scomodo, e cominciamo a scattare anche delle foto a caso, invece, vi faccio vedere un piccolo trucchetto, se voi lo chiudete il telefono, l'andate ad aprire la fotocamera, e andate a cliccare, sul pulsantino che posso qui sopra, chiaramente qui risulta più stretto, ma è la stessa identica impostazione, la stessa identica fotocamera, applicazione, è tutto uguale, ma cambia solamente questo pulsantino, se voi adesso l'andate a cliccare, vedete adesso il display si è spento, quando invece però lo andiamo ad aprire, avete questa impostazione, e questo qui, qui dietro il display è spento, così è molto più comodo, perché voi avete la possibilità di impugnarli, in questa maniera, poter scattare, poter decidere di switchare tra una camera e un'altra, fra tutte e tre le camere, ecco perché vi dico che poi, questa qui interna, esterna, devo dire che non l'ho poi sfruttata così tanto, e ve ne scordate assolutamente di quella interna, perché non serve mai per scattarvi le foto, e la cosa interessante, è che voi se non riuscite a scattare una foto, e cliccare allo stesso tempo per tenere impugnato il telefono, vi ricordo sempre che avete la possibilità di aprire la mano, e lui parte quando riconosce la mano con il timer, e poi va a scattare la foto, e devo dire che questa è una funzione che ho utilizzato tantissimo, specialmente con il grandangolare, per farmi dei selfie, ma anche quando siamo con gli amici in gruppo, mi è risultato un telefono davvero molto comodo, per questi tipi di funzionalità, quindi promossa anche il reparto fotocamera, e un po' tutte le varie funzioni che poi ruotano intorno alla camera, peccato solamente che non possiamo per esempio, andare a scattare le foto in remoto con la S Pen, come facevamo con il Note, perché questa qui purtroppo funziona solamente a contatto con il display, e non ha i controlli invece in remoto, ma andiamo ad aprire adesso le foto, perché voglio farvi vedere un po' tutte le foto che ho scattato in questo periodo, ve ne sono azionate solamente alcune ragazzi, perché ne ho fatte una miriade, ne sono veramente tante, e quindi ho selezionato solamente quelle che ritenevano un po' più significative per questi test, per questa recensione. Allora prima, questa qui è all'interno di uno spazio, per farvi vedere lui come gestisce anche molto bene di giorno, in ambienti però chiuso, le parti più illuminate, le parti invece non vi dico più in ombra, ma leggermente più in ombra, guardate qui come prende bene i colori, devo dire che sia di giorno che di notte, seppur abbiamo tre sensori da 12 megapixel, si comporta bene, se poi siete interessati a vedere altre foto, io vi consiglio di fare un salto sul mio canale Instagram, dove vi ho postato tutti i vari confronti fotografici, con tutti gli altri smartphone, che mi sono capitati in mano in questo periodo, in questi ultimi 2-3 mesi, quindi con l'S21, con l'iPhone, con il Mi 11 Ultra, quindi ho fatto una serie di confronti, vedetele anche lì sopra. Comunque le foto di giorno vengono bene, questa invece è anche foto di giorno fatta con la camera anteriore, quella esterna, e guardate qui, diciamo che senza infame e senza lodi, 10 megapixel, ma che vengono sfruttati bene, ci sono alcune differenziazioni, se vogliamo compararlo con l'S21 Ultra o anche con l'iPhone, però comunque in linee generali, come foto in sé per sé, con la possibilità anche di andare a modificare l'effetto di fondo, quindi il background funziona bene, e soprattutto riconosce sempre al volo il soggetto in primo piano, non va mai a sbagliare il taglio delle orecchie, il taglio del cappello o altri particolari, su questa cosa mi è piaciuto. Qui invece foto fatta sempre di giorno, guardate qui come scatta bene con la ultra grande angolare, poi passiamo alla camera principale, che è quella più luminosa, fino a passare al 2x, che è uno 2x, è chiaramente ottico, quindi funziona bene, fino invece poi qui passiamo al 5x, dove si inizia a vedere un po' di rumore, un po' meno di dettaglio, perché rispetto chiaramente all'S21, o altri smartphone che hanno zoom ottico, 5x o 10x è chiaro che si vede la differenza, e poi abbiamo il 10x, il 10x è chiaro che qui si va a vedere che è uno zoom digitale, e non è ottico. Altra foto invece qui rinizia il trio, ma di notte, di notte anche devo dire che per questi tre sensori si portano a casa delle buone foto, si portano a casa dei buoni scatti che non mi hanno mai deluso. Questa qui è la camera ultra grande angolare, poi passiamo alla camera principale, che è quella più luminosa, e si vede anche se andiamo a zoomare nei vari dettagli della struttura, dove mantiene più dettagli, è anche più corretto a livello di illuminazione, ma comunque le gestisce sempre bene. Il 2x, e poi qui invece abbiamo un altro trio di immagini sempre di notte, perché voglio farvi vedere anche in questo caso, che è differente, come le riesce a gestire. Guardate qui, qui abbiamo la ultra grande angolare, poi abbiamo la camera principale, e poi infine il 2x. Anche il 2x di notte, devo dire con questo tipo di illuminazione, e con queste parti così buie, non si comporta affatto male, anche vedendolo al computer. Passiamo invece alla camera anteriore di notte, anche di notte questa non si comporta affatto male, non sarà il mio smartphone che scatterà con la camera anteriore, però sinceramente a me sono piaciute. Lui poi è preciso, uno scontornamento, mi piace anche l'effetto bokeh, e qui avevamo l'effetto bokeh, che non ha la modalità notte. Di giorno invece con l'effetto bokeh, con le camere posteriori, anche qui, guardate qui, col tutto che era difficile a scontornare questa pianta, con il sole e un conto luce, lui si è comportato bene. Mi è piaciuto anche in questo caso. Camera invece anteriore di giorno, guardate qui anche come riesce a scontornare bene il cappuccio, il giubbino, il cappello, l'orecchio, non me l'ha mai tagliato, e ha un bel effetto di background. Poi altra foto invece fatta all'interno di un locale con tante luci, un locale bellissimo qui a Milano, al Gargett, se ci capirai, se in giro a Milano, provatelo ragazzi, perché si mangia benissimo, ed è un ambiente bellissimo. Guardate qui che foto che è uscita, davvero molto bella, e anche contenuto il rumore, quindi non mi ha deluso affatto sul comparto fotografico. Devo dire che non è uno dei migliori camera phone, o smartphone per il comparto fotografico, però comunque, come vi ho già detto, si portano a casa delle belle foto che assolutamente le potete conservare e ve lo potete portare in giro benissimo per fare anche solamente foto e video, perché i tre sensori si comportano bene, sia di giorno che di notte, e poi, essendo impieghevole, avete visto la flessibilità anche dell'utilizzo per quanto riguarda le camere. Ma visto anche questo, adesso andiamo a tirare fuori questa penna, vi faccio vedere un po' di cose di questa penna. Allora, per quanto riguarda questa cover, dato che me la vede che sta in tanti, non so se vi porterò adesso una recensione sulle cover originali, avevo intenzione, perché ho anche questa qui in pelle, che devo dire mi trovo benissimo, chi di voi mi segue su Instagram sicuramente l'avrà vista. Su questa qui, devo dire due parole solamente, non è molto comoda. Non mi piace per niente questo fatto che non ha la calamita, ha una patta in più avanti che oltre al display, oltre allo schermo, quindi al tablet, si deve aprire anche questa parte, e quando la giriamo sotto, è veramente molto scomoda. Ma questo qui è un discorso a parte, piccola parentesi, che non vi consiglio di acquistarla, acquistate solo la S Pen, perché non ne vale la pena. È una piccola parentesi che volevo fare, dato che me la vede che sto in tanti. Invece per quanto riguarda la S Pen, allora la S Pen, da una parte il lato negativo, che quest'anno, essendo così cicciotta, e da una parte va bene, ok, si impugna meglio, si impugna bene, e ci si scrive bene, adesso ve lo farò vedere, ma purtroppo rispetto al Note, non abbiamo nessun modo per inserirla e per portarla con noi, se non tramite qualche accessorio o anche qualche cover. Fra gli accessori, poi vediamo se vi riesco a portare una serie di accessori comodi per questi nuovi Fold. Come funziona la S Pen? Beh, è facile, basta che andiamo a cliccare qui col pulsante, lui ci riconoscerà subito quando la andiamo a accostare, e vedete anche il pallino che va, che si crea, che si forma davanti quando accostiamo appena la S Pen, quindi comodissimo per vedere dove stiamo puntando, e anche per indicare che ce l'ha riconosciuta. Qui comunque abbiamo le classiche opzioni che troviamo anche sul Note, il Crea Nuova Nota, Vedi tutte le note, la Selezione Intelligente, per selezionare una parte solo dello schermo, andarla a tagliare, a condividerla, a modificarla, a scaricarla, possiamo estrarre il testo o possiamo anche bloccarla sullo schermo. Se vogliamo, non so, appuntarci un numero di telefono, non sappiamo come, blocchiamo la parte, e il gioco è fatto, e ce l'abbiamo sempre a portarla di mano. Poi, qui sotto, Scrittura Su Schermo, ciò vuol dire che fa lo screenshot e noi poi ci possiamo disegnare o modificarlo, comodissima che io veramente non smetto mai di utilizzarla perché ci possiamo appuntare le cose come più vogliamo, possiamo sottolineare i giorni, ci possiamo appuntare altre cose sul calendario, poi le possiamo chiaramente cancellare, scartare, fare quello che vogliamo. Abbiamo la possibilità di spostare il palino a destra o a sinistra, o anche di nasconderlo perché delle volte vi può dare fastidio, perché basta che pigiate il pulsante e comunque avete il menu a portarla di mano. Possiamo ingrandire, possiamo ridurre icona a qualsiasi applicazione e poi ne possiamo anche aggiungere delle altre perché può essere un menu facile, diciamo veloce da poter sempre avere sotto mano quando abbiamo la nostra S penne, quindi comodo anche sotto questo aspetto. Vi faccio però vedere come funziona, andiamo a creare una nuova nota? Così vi faccio vedere come si comporta bene. Allora qui possiamo scegliere tutte le varie penne, lo spessore della penna, possiamo scegliere quella caligrafica, la matita, la penna normale, quella caligrafica a me piace parecchio, anche quando lo prendiamo con uno spessore più alto e più alto che è il blu, va bene lo stesso, abbiamo una differenza di spessore e si comporta veramente bene ragazzi. Veramente risponde bene, hanno aumentato i punti di pressione poi con questa nuova S penne, vi faccio vedere come riesce a tenere il tratto e rimane sempre dietro alla penna. Possiamo anche andare a colorare col pennarello, qui con l'evidenziatore e possiamo accedere il tratto, il tipo di evidenziatore se tagliato oppure con la punta rotonda, possiamo anche decidere se renderlo più o meno trasparente in base alla durezza, in base a quello che vogliamo fare, possiamo veramente farci di tutto, anche perché qui questa penna su questo tablet comincia ad avere veramente un senso, perché qui abbiamo quasi un tablet, quindi non è più la penna integrata sull'S21 dove lo schermo è sempre questo qui, per quanto grande possa essere ma è comunque ridotto. Qui invece aumenta tantissimo la produttività per implementare i PDF, per scarabocchiare i suoi parati di disegni, per fare i nodi di disegni, degli appunti, delle schizze a mano, per anche schizzare a volo qui, appuntarci qualche cosa, andare a selezionare il testo, appuntarci un numero di telefono, selezionarlo, copiarlo, incollarlo da qualche altra parte. Io per esempio l'ho spesso utilizzato anche mi arrivano i documenti, li scarico, li firmo con la S Pen e li rinvio e li rigiro. Rimane veramente molto molto comodo. Poi qui abbiamo tutto quello che troviamo sul Note, l'ordinamento delle pagine, il modello di pagina, le impostazioni della pagina, lo possiamo condividere, implementare, inserirne i preferiti con la stellina oppure cancellarlo. E qui per esempio, vi faccio vedere un'altra cosa, se noi andiamo a cancellare, se noi andiamo a scrivere 3, 2, 8, scusate, 1, 2, quando noi possiamo andare a selezionare, in questa maniera, lui vedete che fa cambia stile, elimina, incolla, copia o taglia. E lo possiamo sempre poi far riconoscere, ma possiamo anche andare a dire, vedete di estrarre il testo in questo modo, andiamo a estrarre il testo, lo possiamo convertire o copiare. Questa qui è una cosa accomoda, perché l'ha utilizzata anche per prendere appunti veloci e poi convertirli in testo oppure memorizzare nuovi numeri di telefono. Da qui, questo, chiaramente, da questa parte lo possiamo andare a spostare, a rimuovere, a ridurre icona e questa qui diventa un pip, quindi un picture in picture, ma se noi facciamo tutto schermo, la possiamo sempre comunque implementare a tutto schermo e possiamo fare quello che più vogliamo. Poi, chiaramente, qui in Oscore abbiamo tutte le altre serie di implementazioni e funzioni, per esempio, qui possiamo anche andare, eccola qui, per andare a creare delle figure geometriche precise, quindi, se vogliamo fare un quadrato, questo serve anche molto a livello lavorativo, se volete fare delle presentazioni, gli schemi, questo è molto molto utile. Quindi, sono tutte implementazioni che secondo me, ecco, le gesture delle volte non funzionano sempre, perché in base a dove siete con la penna, però comunque poi potete fare quello che volete. Qui c'è chiaramente implementato Google, ma potete scegliere, se teniamo premuto, di scegliere Google Discover o Samsung, o quello nuovo di servizio di Samsung, ma io preferisco Google, perché è molto molto meglio, e poi c'è anche la possibilità di scrivere direttamente qui, direttamente dal widget, altra cosa comodissima con la penna. Quindi, secondo me, la penna è stato quel plus in più che mancava assolutamente a questo Fold. Come implementazioni che mancano, a chi io ne ho sentito un po' la mancanza, è una penna che può essere inserita nel Fold e soprattutto dei comandi in remoto per poter scattare in remoto, per esempio, con la camera oppure andare a gestire le varie slide. Vi faccio vedere un po' di impostazioni anche della penna, dato che ve l'ho fatta vedere prima al volo, ma sono passato volando. Allora, abbiamo l'Always On Memo, perché noi possiamo a schermo spento anche qui, come su Note, andare a scrivere a schermo spento al volo, le creazioni di note rapide, da S Pen a testo, quindi scrivere ma trasformare in testo, Air View, attivato o non attivato, lo possiamo disattivare, mostra il puntatore al passaggio, quello che vi dicevo prima, i collegamenti vari, lo possiamo andare a modificare da qui, apri Air Command con il tasto della S Pen, i suoni, i consigli su S Pen e mostra l'icona Air Command, quindi tutta una serie di impostazioni che possono sempre essere utili. Per rilevarle adesso alle conclusioni di questo Fold 3, ragazzi, beh, allora, il prezzo non è decisamente come molti di voi sapranno, dei più contenuti, qui parliamo di un prezzo ufficiale di 1700 euro circa, 1800 anche su alcune versioni, diciamo che il prezzo sì, non è dei più contenuti, però attualmente oggi si può trovare anche in sconto, in promo, con qualche promo si può anche arrivare intorno ai 1400, 1500, anche sotto i 1400, devo dire, vale la pena? Beh, se ci sono, se contate che oggi si sono sul mercato o telefoni normali tra virgolette, però di questo genere classici, che li pagate e li possiamo pagare anche più di 1400 euro, 1300 euro, beh, allora vi dico, perché non pagare la stessa cifra o anche quei 200 euro in più per avere in tasca un telefono che vi funge anche da tablet, da semi-tablet? Devo dire che, e da questo qui l'avete capito, che non ho trovato tanti punti negativi su questo telefono, a me continua a piacere tanto. Non lo posso confrontare e paragonare in maniera diretta come mi dicono tanti, è meglio questo o l'S21 o questo o l'iPhone. Io questi Fold anche quest'anno li continuo a ritenere una categoria a parte, che non può essere comparata con l'attismartphone, perché qui abbiamo, ok, un dispositivo più pesante, ok, più spesso, ma abbiamo un 2 in 1, ragazzi, che se vi serve per lavoro o perché volete avere un display più grande per l'intrattenimento, perché viaggiate spesso e volete vedervi film, non ha prezzo, dopo un po', dopo qualche giorno non ci fate nemmeno più caso al peso o allo spessore, perché comunque ha una serie di funzioni che sono praticissime e sono utilissime. Ecco perché io vi continuo a dire che rimane uno smartphone, tablet, che fa, diciamo, una categoria a sé, test a sé, non può essere paragonato. Se avete bisogno, avete necessità di un display più grande e non badate al prezzo e non vi costa, dopo un po', anche il peso o lo spessore, allora non c'è proprio paragone. Non posso far altro che consigliarlo. Comunque poi fatemi sapere voi anche che cosa ne pensate di questo Fold, se siete interessati o non siete interessati se lo state già provando, se avete riscontrato anche problemi, perché io lag, rallentamenti o altri problemi di alcun genere non ho mai avuto o mai notati. Anche sugli scaldamenti, forse un pochino, ecco, una cosa che mi stavo scordando, un pochino di sugli scaldamento quando ho utilizzato tanto il Fold per, non solo per i video, non solo per vederli, ma per girare foto e video delle volte l'ho potuto avere, ma nulla di che, nulla di grave, nulla di trascendentale. Il dispositivo funziona davvero molto molto bene, quindi speriamo anche in un Fold 4 l'anno prossimo che continua a implementare e continua a migliorare sotto tutti gli aspetti. Poi fatemi sapere anche qua sotto nei commenti non so che cosa ne pensate, ma se vi interessano anche delle recensioni dedicate agli accessori e alle cover, alle media cover per questi nuovi Fold 3 di Samsung. Per questo è tutto da Pier Giorgio, Times Gadget, buona giornata a tutti e grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.